Ottimo. Allora, intanto grazie a questo invito che spero sarà interessante, divertente, insomma, giudicate voi post festum su questo tema che in realtà da qualche parte mi appassiona. Ma fatemi cominciare con un antefatto, perché a un certo punto è venuta fuori questa esigenza di avere molta potenza di calcolo, intellettualmente divertente e triste nei fatti, che in realtà l'esigenza avviene dalle guerre. Perché dalle guerre, perché le guerre aguzzano l'ingegno e quindi in realtà la capacità di risposta scientifico-tecnologica e la superiorità bellica è molto importante e dietro questo, data la natura della moderna fisica, ingegneria, eccetera, c'è il calcolo. E voglio raccontarvelo con un esempio che mi piace tantissimo, perché dice come le cose più astratte in realtà, se uno ha calcolo, diventano strumento di potenza. Tutti sappiamo che la Seconda Guerra Mondiale è stata caratterizzata dall'uso massiccio dei bombardieri, che facevano quello che gli pareva, perché la contraerea era uno strumento lento e inefficace. Hanno cominciato a migliorare le capacità di tiro e contavano su una traiettoria regolare degli aerei e quindi sparavano un po' meglio. E appena i piloti hanno capito questo hanno cominciato a zigzagare e quindi facevano quello che potremmo chiamare una traiettoria stocastica, una traiettoria casuale. Il bravo probabilista americano Wiener ha considerato questo problema e ha detto che se noi facessimo un mapping della traiettoria da ubriaco dell'aereo e ne facessimo la funzione di autocorrelazione, e forti di questo, facendo l'ipotesi che questo zigzagare sia caussiano, abbiamo una teoria della predizione che ci permette di calcolare la media condizionata un certo tempo dopo, nel quale si troverebbe l'aereo che ha questa traiettoria, noi spariamo lì e lo facciamo nero. Tutto vero, solo che per fare questo serviva la possibilità di rilevare la traiettoria, di fare molto rapidamente la funzione di autocorrelazione, di applicare questa teoria matematica probabilistica dei processi stocastici per fare una predizione e poi si poteva forse utilizzare il mezzo. La seconda guerra mondiale quindi ha prodotto, questo è giusto un esempio, in tanti casi, ha prodotto i computer elettronici che per partire erano mille ma rapidissimamente sono diventati un milione di volte più veloci nel calcolo della singola operazione di quanto era l'uomo e quindi hanno dotato di questa potenza enorme la civiltà umana. Alla fine della guerra, finché c'è stata la guerra non se ne parlava, alla fine della guerra si è posto il problema che fare con questa potenza costosa, costosissima, spregava un sacco di energia, speciale all'inizio, con questa potenza notevolissima che le nazioni più potenti si erano conquistate, in particolare l'America, ma la Germania stava non molto lontano e l'Unione Sovietica ha seguito a ruota. E allora tipicamente siccome chi aveva permesso l'uso di questo strumento erano gli scienziati, si sono rivolti agli scienziati e hanno detto ma voi ci sapreste fare qualcosa di buono? E gli scienziati non hanno sentato molto a dire accidenti se ci potremmo fare qualcosa di buono e hanno pensato di risolvere dei problemi della fisica che in realtà erano ben formulati ma risolubili solo in casi estremi, in casi limite, se non facendo riferimento a mezzi di calcolo potenti. E qui entriamo nel nostro settore perché all'inizio questa cosa sembrava da applicare alle questioni tecnologiche o tecnologiche, si base scientifica che venivano dalla guerra, ma rapidamente si è aperto un settore che era un settore che può sembrare di prima kit e questo sarà una delle cose che voglio far vedere, che sembrava ancora applicativo perché sembrava una teoria semplice, ma che vedremo che era pura fisica teorica fondamentale e che ha aperto una prospettiva completamente nuova in cui la fisica teorica non formulava le leggi universali ma le risolveva solo in casi semplicissimi e poi al più dava una picture per capire, ma risolvevano incorporevano la difficoltà materiale di risolvere un problema, diciamo a mani bodi, ma risolvere il problema nella complessità della materia materiale che è a costituzione atomica e quindi permettevano di arrivare con una forza scientifica totale anche a condizioni di grande complessità materiale. Poi lo sviluppo della strumentazione ha fatto il matrimonio con questo ed è partita questa branca che è la fisica computazionale fondamentale. Il titolo lo leggete perché ho messo historical fra parentesi perché in questa prima parte io vi farò vedere piuttosto qual è la questione da capire storicamente perché questa questa storia ha già 70 anni e ve ne darò gli elementi concettuali strutturali e un pochino anche epistemologici e poi cercherò anche di spiegare perché finora di ricostruzione storica ce n'è stata poco. Noi abbiamo fatto un tentativo, Adele ha ricordato il libro e Gianni invece entrerà un pochino di più nella parte storica del gioco. Allora che voglio farvi vedere in The Order? In primo luogo che cos'è una simulazione molecolare che diciamo è sicuramente teoria ma non è evidente che sia parte della fisica teorica e allora la seconda cosa che voglio farvi vedere è omogenea e che è proprio fisica teorica fondamentale. Vi ho dato una definizione di comodo ma divertente di fisica teorica, di costruzione noetica cioè intellettuale del mondo materiale e come il computer abbia permesso di realizzare questo sogno della fisica teorica che è un sogno di potenza. Poi cercherò di far dare rapidamente gli elementi dell'evoluzione del significato della simulazione molecolare e infine di spiegare perché malgrado abbia 70 anni ancora storici epistemologi se ne sono occupati poco che è un grave danno perché e sarebbe una lunga lista è dolorosa in realtà fra 2010 e 2020 quasi tutti i fondatori stanno andandosene perché i fondatori avevano tipicamente gli anni fra il 50 e il 60 avevano tipicamente 30 anni 35 e quindi la loro generazione che è longeva parecchi hanno sopravvissuto e stanno alcuni stanno a 95 anni stanno morendo quindi le testimonianze rischiano di non poter più essere raccolte. Allora entriamo in media stress. Una definizione che cos'è la simulazione molecolare? La simulazione molecolare è semplicemente questa cosa considerare che la materia è fatta di atomi e rappresentare gli atomi come punti materiali quindi dotati di una massa che soddisfano le equazioni di Newton un problema che potrebbe stupirvi ma che risolveremo fra poco considerare la loro interazione le interazioni fondamentali siccome le forze nucleari forti le deboli e poi insomma e le gravitazionali contano poco sarebbero solo le elettromagnetiche ma questa interazione che noi consideriamo qui non sono quelle colombiane o elettromagnetiche la ragione la vedremo far poco comunque gli atomi interagiscono in qualche modo e se io conosco l'interazione o le forze che si agiscono fra loro e posso pensare di risolvere la dinamica sapete sicuramente tutti benissimo che due corpi si risolvono tre no numericamente sì ma in modo analitico teorico no quindi c'è un problema nel senso che se vogliamo risolvere il problema di un pezzo di materia in teoria numero d'avogadro di particelle in realtà vedremo che non è vero devo poter risolvere un sistema di molti corpi veri perfetto quindi si tratta di risolvere questo conoscendo l'interazione quindi conoscendo e con che potrebbe per esempio essere la somma di un certo numero di potenziali additivi e di coppia e poi trovare un modo per integrare in realtà benché se ho potenza di calcoli o possa risolvere questa dinamica in tutti i trattati di meccanica statistica di eteromodinamica eccetera si dice sì è vero dio sarebbe capace di fare questo noi no però a noi non interessano questi dati individuali del sistema siccome il sistema è un sistema molto numeroso di oggetti identici quello che ce ne interessa quello che ci interessa sono le proprietà statistiche quando in primo luogo quando il sistema è messo al chiuso e quindi siccome le forze non dipendono dal tempo in un tempo più o meno lungo regisce raggiunge uno stato stazionario è quello che si chiama l'equilibrio della meccanica statistica o della termodinamica in questa comprensione le proprietà microscopiche sono irrilevanti mentre quello che ci interessa per capire il mondo sono le proprietà statistiche e questa è una branca ben sviluppata a priori Einstein le chiamava una teoria di principi perché non spiega niente ma dice quali sono le cose importanti da studiare che è la termodinamica e io le posso calcolare come le posso calcolare il padre fondatore di tutto la parte concettuale che è Boltzmann all'epoca calcolava poco che Boltzmann ha fatto la seguente osservazione se il mondo è fatto di punti materiali con una certa massa magari con la carica magari con lo spin e null'altro le proprietà materiali non possono che venire da funzioni della capacità di cambiare stato di questi oggetti e questi oggetti come cambiano stato nello spazio e nel tempo cioè nello spazio e grazie al fatto che hanno una velocità questo rp che io ho scritto qui altro non è che quello che si chiama lo spazio delle fasi cioè lo spazio degli eventi in cui da cui noi possiamo trarre mediante delle funzioni matematiche quello che io chiamo osservabili che rappresentano microscopicamente delle proprietà materiali ma la proprietà statistica non è quella del sistema di atomi che si muovono in modo pazzoide ognuno per affari suoi sotto le interazioni ma è la loro media temporale su un tempo lungo in senso microscopico quindi matematicamente diciamo in un tempo virtualmente infinito e quindi il mondo fisico il mondo materiale che noi vediamo è il risultato di questa media che è il limite di queste funzioni di fase osservabili lungo la traiettoria adesso facciamo un piccolo passo e vediamo che questo ci dice un sacco di cose sulla natura di questo equilibrio statistico nel senso che noi abbiamo discretizzando questo integrale abbiamo sostanzialmente una somma di intervallini vicini questo h è un passo di integrazione è un piccolo time step di tanti passi di integrazione al limite per n che va infinito e questa somma la possiamo riordinare la possiamo riordinare come gli stati visitati dal sistema nel suo percorso dinamico e possiamo ricalcolarla come il valore dell'osservabile in un dato stato per il numero di volte che quello stato si è presentato diviso il numero totale di stati esaminati nel tempo lungo questo oggetto che è una frequenza diventa una probabilità dello stato quindi questa somma la possiamo rivedere come una somma sugli stati visitati per la loro probabilità e passando di nuovo dal discreto all'infinito come un valore atteso su una scusate come un valore atteso su una probabilità che con termine diciamo Boltzmann lavorava su queste cose quando non c'era ancora una statistica matematica e una formalizzata teoria delle probabilità quindi si è inventato questo nome di ensemble che nasconde il fatto che questa è solo una densità di probabilità per noi e quindi la media di Boltzmann può anche essere vista per l'equilibrio come una media su una probabilità stazionaria che è la rho di rp e questo è il punto di vista di Gibbs che ha fatto sì che si potesse sviluppare analiticamente questa teoria anche senza essere capaci di risolvere il moto meccanico però vedete che a causa di questo noi adesso capiamo che quello che ci serve per capire il mondo non è più solo l'osservabile e il suo moto ma può essere dato come l'osservabile proprietà meccanica in generale oppure diciamo la probabilità e tutte le conseguenze della natura di questa probabilità danno origine a quelle che vengono chiamate per esempio l'energia libera proprietà termiche del sistema quindi abbiamo che quello che dovremmo essere capaci di elaborare sono le derivate di una probabilità multidimensionale che quindi sono le sue marginali le sue condizionali eccetera che fanno l'insieme delle proprietà termiche e invece i valori attesi delle proprietà tipo la pressione che fanno le sue proprietà meccaniche se questo a questo quadro si dà un contenuto numerico questo diventa una potenza perché allora la meccanica statistica teoria a differenza della termodinamica predittiva diventa capace di spiegarci quello che fa il mondo cioè come sta il mondo almeno all'equilibrio in realtà si può poi generalizzare questa roba anche a non equilibrio ma oggi non ce ne occupiamo cerchiamo solo il concetto fondamentale sta pagina non la guardate fondamentalmente guardate solo l'inizio va bene il resto ve lo dico in una parola computazionalmente nel 1955 quello che si riusciva a calcolare hanno 32 108 200 particelle oggi si arriva ben ben oltre 10 alla 9 particelle ma in realtà il miracolo della simulazione numerica è stato scoprire che le le proprietà statistiche di un sistema chiuso in una scatola con condizioni periodiche al bordo sono già quelle del sistema statistico sviluppato a qualche per cento e ci danno esattamente la ricostruzione della della termodinamica almeno con grandissima precisione a partire da questi piccoli numeri quindi ho metto in una scatoletta microscopica perché di fatto è microscopica ha una densità data in un volume finito le mie particelle do la legge del moto mi do un algoritmo di integrazione mi integro le equazioni del moto e ho la traiettoria di bolsa ma la uso per calcolare l'ensemble cioè le probabilità e per calcolare i valori attesi quindi risolvo il mio problema tuttavia questa potrebbe non essere considerata fisica teorica perché anche i bambini ormai e si insiste molto a fare questo sanno che il mondo in teoria è quantistico quindi si diceva beh questa sarà un'approssimazione sarà un'approssimazione tecnologica di che si tratta in realtà adesso vi faccio vedere ci tengo molto a questo per farvi capire l'ampiezza della fisica teorica che nel mondo dove il relativistico conta poco e la teoria quantistica dei campi fondamentale per le leggi fondamentali niente perché proprio non è necessaria in realtà la meccanica classica è lo strumento rigoroso per calcolare le proprietà del mondo allora assumiamo che il mondo sia quantistico non relativistico allora sapete benissimo che significa che c'è una miltoniana che l'energia cinetica dei nuclei l'energia cinetica degli elettroni e l'interazione colombiana che è l'interazione fondamentale la sola che rimane visto che non sono importanti le forti le deboli e neanche la gravitazione allora i bravi borne oppenheimer hanno fatto la seguente osservazione immaginiamo di tenere i nuclei r grande i nuclei fissi e quindi di non considerare l'energia cinetica nucleare e consideriamo questa che è una miltoniana parametrica nelle posizioni nucleari allora possiamo dire che la soluzione dell'equazione sapete che in meccanica quantistica dipendente dal tempo o indipendente dal tempo se posso conoscere tutti gli autostati e gli autovalori sono la stessa cosa quindi dovremmo risolvere il problema totale è proprio beyond perché l'insieme degli elettroni e dei nuclei è troppa roba allora concentriamoci solo invece sugli elettroni e consideriamo gli elettroni a nuclei fissi allora in realtà c'è speranza e possiamo considerare che i nuclei essendo una roba molto pesante tenerli fissi non è tanto sbagliato e possiamo pensare di risolvere questa equazione che ha molti meno gradi di libertà indipendente dal tempo e se possiamo pensare che data la leggerezza degli elettroni loro finiscono come è tipico di tutti i sistemi meccanici a essere nello stato fondamentale a nuclei fissi e se i nuclei si muovono molto lentamente come è il caso succede che se io sono arrivato nello stato fondamentale da lì non mi muovo benché lo stato fondamentale questo e con esse diventi e con zero e scusate diventi e con zero e cambi in funzione di questo lentissimo moto in queste ipotesi che si possono formulare matematicamente ma ci passo sopra la complessissima funzione d'onda dipendente dal tempo può essere ridotta a un'equazione più semplice in cui devo conoscere lo stato fondamentale degli elettroni funzione parametrica delle coordinate e l'ampiezza nucleare chi zero di rt di questo sviluppo che è rigoroso e allora in questa approssimazione borno penheimer che è considerata approssimazione aria batica o che chi zero chi zero è ottenuto risolvendo questa equazione questa che vi ho scritto qua con la miltoniana elettronica che non contiene il modo dei nuclei il modo dei nuclei è dato da un'equazione che l'equazione in questa ipotesi adiabatica è un'equazione molto semplice in cui gli elettroni sono scomparsi il loro ricordo è in questo autovalore elettronico di stato fondamentale e io ho che questa equazione a risolvere adesso è solo l'equazione dei punti materiali nuclei va bene e mi l'evoluzione totale del sistema questa è la approssimazione della barriga stretta e ci sono condizioni in cui naturalmente verrà violata e questo avvita un problema di ordine più alto ma ora possiamo stare tranquilli che in molte condizioni questa approssimazione è vera è vera fondamentalmente perché non ci sono le condizioni fisiche perché il sistema degli elettroni si ecciti e vada negli stati occitati e quindi queste sono le equazioni a risolvere ma adesso noi sappiamo un'altra cosa noi sappiamo che i nuclei essendo molto pesanti rispetto agli elettroni e la temperatura essendo abbastanza alta questo è un argomento semiclassico ma anche lui rigoroso e rigorizzabile quando la lunghezza termica che questa quantità di de broglie cioè quando l'energia cinetica diciamo così degli elettroni è abbastanza forte da rendere scusate dei nuclei abbastanza forte gli elettroni esistono più dei nuclei abbastanza forte da rendere la distanza la lunghezza d'onda di de broglie quindi quanto lontano si sentono gli effetti quantistici dai punti materiali nuclei quando questa lambda è molto minore della distanza internucleare allora quell'equazione quantistica sempre difficile che l'equazione di shredding nucleare si riduce al modo classico di newton quindi le equazioni da cui sono partito sono equazioni perfettamente rigorose morale se io so fare questo calcolo e i bravi padri fondatori alder rahman eccetera hanno dimostrato che poche poche decine nel caso più pessimistico poche centinaia di nuclei sono sufficienti per derivarci la termodinamica almeno quella di base allora vedete che se so fare questo calcolo io sono in comando di tutta la fisica che dipende da queste condizioni per sistemi semplici il problema che non si sapeva risolvere analiticamente perché il gas i gas rarefatti si sanno risolvere si sa tutto per tutti noi fisici è quello che ci si insegna la fisica 1 a chimica generale eccetera o anche i solidi cristallini perché sono fondamentalmente armonici il vero problema che non si sapeva risolvere e che con sprezzo tipico da fisici i fisici erano delegato ai chimici che ci facessero le loro zonzerie il problema che diventava risolubile teoricamente era il problema dei liquidi e quindi come vedete nel 56 si sono affrontati i liquidi e si è visto prima di tutto o diciamo i gas densi in realtà perché nel sistema delle sfereature il liquido vero non c'è però c'è il fluido denso i fluidi sono capaci di transizione di fase quindi noi possiamo dalle leggi fondamentali della fisica capire quali sono qual è l'equazione di stato di questo sistema costruire il diagramma di fase e poi capiamo che questo sistema è anche capace di tirar fuori le proprietà della dinamica continua quella che gli ingegneri trattano con l'idrodinamica che è una teoria fenomenologica e quindi che questo approccio può portare aiuto all'ingegneria in pochi anni queste cose sono state generalizzate ogni cosa è costata un sacco di fatica concettuale perché i sistemi carichi hanno le interazioni colombiane oltre l'interazione fondamentale degli elettroni nucleo nucleo e quelle sono a lungo range quindi in pochi anni si è riusciti a affrontare i sistemi carichi le miscele i sistemi molecolari e quindi già nel 71 erano stati trattati sistemi carichi sistemi molecolari e quindi tutta la fisica dell'equilibrio che era molto importante era stata trattata ab inizio da una fisica teorica che non era più una fisica dei principi e poi delle qualità era una fisica di totale possesso della realtà fisica se strumentalmente arrivavamo a controllarla quindi per esempio l'interesse per tutta questa roba è venuta quando lo scattering dei neutroni ha permesso di andare a vedere le strutture reali di questi sistemi e quindi di controllarle di poterci giocare sopra quindi a partire dagli anni 70 è cominciata la possibilità di occuparsi di un po di material science e quando questa cosa era matura ma non era ancora pronta c'è stato un grandissimo progresso perché si è potuta fare quella che si chiama la dinamica molecolare all'inizio cioè si è potuto fare che cosa si è potuto dire quelle con zero che fino a questi anni fino all 85 normalmente era semplicemente ottenuto facendo dei fit cercando di capire come si comportava queste tecniche zero può essere invece calcolato veramente ab inizio per esempio con la density functional theory o con altri approcci teorici se questo è il caso e se io abbastanza potenza di calcolo posso calcolare e con zero in modo fondamentale ogni volta che i nuclei stanno in una posizione diversa e posso fare una dinamica che è veramente una dinamica molecolare posso fare una dinamica che è veramente fatta in modo ab inizio in modo fondamentale e quindi mi trova le strutture anche di materiali complicati perché se si era partiti con i liquidi semplici sarà fatta potuta fare l'acqua eccetera quando si si va a materiali come il silicio eccetera che hanno proprietà particolari se io non ho dati seri sul potenziale sull'e con zero non vado avanti e a partire dal 76 con progressi tecnici diciamo nell'ambito della simulazione si è potuto cominciare a affrontare i sistemi macromolecolari e quindi quella che si chiama la materia soffice e i sistemi biologici va bene i modelli erano restritti e la fotosintesi per esempio non si poteva capire ma la fotosintesi richiede gli stati eccitati e gli stati eccitati non sono ancora in questo discorso vedremo che verrà fatto questo non si è fatto tutto naturalmente perché ci sono tutte le cose che scappano quali sono le cose che scappano le prime sono una cosa ben nota nella fisica macroscopica che sono tutti i casi in cui il sistema atomico presenta delle metastabilità delle metastabilità o presenta dei fenomeni come l'idrodinamica con lunghezza d'onda molto piccola voi sapete perché si chiama pacifico l'oceano pacifico che ha delle tempeste mostruose perché le tempeste mostruose sono onde altissime ma anche di lunghezza d'onda lucchissima e quindi in realtà una nave in questa tempesta ci mette mezz'ora arrivare in cresta e mezz'ora scendere e quindi in realtà se la scampola più che bene e quindi sembra sempre un pacifico c'era questi fenomeni con un sistema di 40 angstrom io non li posso vedere e quindi c'era il problema di estendere la scala temporale e la scala spaziale un profilo di tecniche dagli anni 90 ci hanno permesso di cominciare a andare in questa zona quindi reazioni chimiche quindi fenomeni idrodinamici eccetera la cosa che invece era più difficile era riuscire a trattare i sistemi il mondo quantistico cioè i sistemi quando lo stato fondamentale che si riusciva a calcolare con la trifocca densi di functional theory lab inizio e quindi con lab inizio md non era più sufficiente o perché uno voleva fare la dinamica eh statistica di equilibrio a temperatura finita o perché uno aveva già eh semplicemente qualche stato eccitato che entrava in mezzo qual era un caso tipico che disturbava molto era il caso dell'elio superfluido l'elio superfluido è quantistico solo a temperature bassissime è un sistema di bosoni presenta la superfluidità un fenomeno classicamente non spiegabile perché i bosoni eh sono sensibili alla simmetrizzazione e quindi eh presentano il fenomeno della condensazione quantistica e la condensazione quantistica era stata predetta presto e la statistica di Bose e Einstein ma non si poteva calcolare ebbene nell'ottantacinque circa fra l'ottantacinque e il novanta eh tal david sepperley ha visto che con i patinte di Feynman che sembravano uno strumento solo concettuale e invece potevano anche loro essere calcolati si poteva calcolare la meccanica statistica quantistica di equilibrio per i bosoni compiutamente ed era una cosa e questa è la mia osservazione a cui tengo molto che era un grandissimo passavanti nella comprensione del mondo fisico ma che non aveva bisogno di strumenti oltre il metropolis Monte Carlo di cui non vi ho parlato ma che è una teoria veramente gemella per l'equilibrio della dinamica molecolare o la dinamica molecolare anche se queste due tecniche numeriche erano state portate a giocare un ruolo molto più astratto però erano sempre loro quindi i programmi potrebbero essere più difficili potrebbero essere più 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 difficili a penetrare concettualmente ma non erano altro che ancora delle applicazioni di quello che i padri fondatori delle estensioni se volete i padri fondatori hanno scoperto all'inizio dell'avventura e quindi fra il 50 e il 60 le le estensioni che vi ho detto sono estensioni che sono già state realizzate quindi fanno parte dei successi e della storia del campo ci sono però delle cose che vorremmo addomesticare per così dire cioè delle cose che vorremmo arrivare a controllare e che assona solo un problema il primo e più grande problema che turba tutti i simulatori come me è che la dinamica quantistica sfugge e sfugge perché perché la formulazione di la formulazione di Schrodinger rimane largamente incalcolabile soprattutto per sistemi a molte particelle ma la la dinamica quantistica potrebbe essere affrontata con i patinte real di Feynman ma diversamente dalla statistica quantistica a questa caratteristica che c'è un fattore di fase che dà quantità che oscillano continuamente fra più e meno e voi sapete che quando voi sommate due numeri molto vicini va tutto bene quando li sottraete voi perdete precisione numerica in un modo strepitoso voi sottraete due numeri che distano solo alla quindicesima cifra no e quando fate la sottrazione vi rimangono due cifre significative se lavorate con 17 cifre quindi riuscire a calcolare cose che richiedono milioni di operazioni con sottrazioni di quantità vicine è ancora molto al di là della capacità di classico ci sono dei successi parziali semi classica limite qualche approccio con con Feynman ma insomma stemperato e la piena dinamica quantistica è ancora nella sua infanzia qual è il problema irrisolubile teoricamente ancora questo è molto divertente perché in teoria noi sentiamo parlare dei plasmi come un problema risolto teoricamente in realtà non è vero i plasmi a tutt'oggi sono risolti con equazione fenomenologica di tipo ingegneresco perché nel caso dei plasmi tutto e ci come come il sole no tutto è eccitato gli elettroni non sono più legati ai nuclei e i nuclei fanno quello che gli appare elettroni quando ci sono reazioni nucleari intervengono le interazioni forti quindi lì effettivamente servirebbe la meccanica quantistica relativistica statistica e quella è ancora beyond e diciamo fa parte dei sogni allora in poche parole come è andato qual è il flow chart se volete che tocca però il mondo materiale che fa capire che la fisica teorica e questa è un cambiamento epistemologico non è più di aiuto remoto alle cose che stanno scritte qui e che adesso vi illustro ma è entrata dentro questo settore e questi settori si sviluppano grazie alla capacità predittiva della fisica teorica quindi ho già parlato dei materiali reali ho parlato della materia soffice ma e questo comincia a essere più interessante e fa parte più di un sogno ambizioso molta dell'industria farmaceutica ora progredisce ancora in maggioranza con attività empirica di sintesi eccetera ma si appoggia anche sempre di più su attività di simulazione e si stanno studiando i processi biologici che ci portano a un sogno nascosto dei fisici che mi piace molto ricordare che che trasformare la medicina che è una brutta tecnologia molto approssimata in fisica teorica ancora più difficile naturalmente è il problema della fusione termonucleare del plasma un'osservazione divertente è il reshuffling delle discipline che ha portato questo progresso i matematici astratti erano quelli che davano rigore al linguaggio della fisica teorica adesso la fisica teorica è diventata parte essenziale della della biologia della chimica eccetera e quei formalismi quelle idee generali quelle strutture matematiche che erano solo linguaggio devono diventare strumenti di calcolo e quindi la fisica teorica si sta meritando in modo molto stretto con la matematica applicata che rende possibile uno sviluppo rigoroso matematicamente è anche più più veloce più efficiente i concetti algoritmi perché nei primi 40 anni del suo sviluppo non c'era questo apporto e quindi è molto divertente leggere gli articoli delle prime decadi di questo settore si vede come chimici fisici e biochimici eccetera trovassero delle cose di grande importanza matematica in modo infinitamente empirico infinitamente elementare senza capire che stavano scoprendo degli strumenti universali di soluzioni di problemi ed è questo che ha citato i matematici applicati e li ha portati nel campo quindi c'è la possibilità di rivedere veramente l'albero della conoscenza e questo è un fatto epistemologico e però in un'associazione che comprende tutte queste competenze storiche e la parte applicata della matematica e scusate sottolineato invece volevo andare avanti un'osservazione sociologica che mi diverte moltissimo ma questo è un fatto personale forse diciamo lo condividerete di meno ma a me mi diverte molto la fisica teorica è sempre stata e fra un secondo ne vedremo un impatto divertente è sempre stata molto presuntuosa da qualche parte cioè lei è la cosa importante il resto non conta allora ci siamo divertiti andare a vedere un concetto fondamentale molto importante molto utile molto significativo della fisica teorica che è stato scoperto fondamentalmente negli anni settanta il concetto di gruppo di normatizzazione quanto ha eccitato negli anni la ricerca delle persone quanto non sia rimasto nel suo un po ripetersi diciamo no e allora abbiamo guardato dieci anni in dieci anni come è andato lo sviluppo in termini numero di pubblicazioni di questo concetto fondamentale vedete che in questo istogramma tridimensionale questo è lo sviluppo del gruppo di rinormalizzazione poi abbiamo visto gli strumenti le scoperte tecnologiche importante il transistor il grafene come si sono sviluppate e il numero degli articoli a loro dedicati vedete che rispetto ai poveri 9.500 del gruppo di rinormalizzazione si va 83.000 89.000 cioè si va a crescite veramente invadenti o l'invading ma se andiamo a prendere la simulazione molecolare noi scopriamo che lei è andata la simulazione molecolare che era infinitamente più piccola del gruppo di rinormalizzazione negli anni fra il 77 e l'86 erano 1051 contro 456 è cresciuta esponenzialmente e c'è un'instabilità che è ovvio e nel giro di quattro decadi siamo a 101 mila articoli pubblicati nel settore della simulazione perché questo perché in realtà ha impattato non solo sulla fisica ma su tutte le scienze e questo è un fatto notevole veniamo alla mia conclusione preliminale vedete che c'è c'è molto da capire da ricostruire anche da favorire io sono convinto e questa è una cosa che condividiamo e che vi farà piacere di scambiare con me che la storia e l'epistemologia della scienza contemporanea e del passato non è solo conoscenza per gente ricca ma è anche uno strumento di progresso perché vuol dire capire i meccanismi con cui si procede allora perché la storia e l'epistemologia della realità della meccanica quantistica che ha avuto immediatamente i suoi trombettieri sarei anche tentati dire i suoi sicofanti perché Einstein è stato un grandissimo scienziato ma se voi guardate bene l'evoluzione della fisica che ha scritto con infeld è un libro vuoto è un libro poverissimo è un libro di propaganda allora perché le perché queste teorie sviluppate nell'arco di una ventina trentina d'anni no la relatività e la meccanica quantistica e quantistica relativistica hanno avuto immediatamente così tanto fulgore epistemologico mentre in 70 anni di sviluppo la fisica computazionale che è fisica teorica al più alto livello non ce l'ha avuto è stato divertente perché c'è una ragione intrinseca ma c'è una ragione sociologica molto che mi ha molto divertito la ragione intrinseca è che in realtà come molte cose all'inizio non era un cambiamento drammatico la fisica dei liquidi era stata già relegata a un settore applicativo per i per i chimici quindi all'inizio erano queste persone un po a cavallo fra la teoria fisica e la tecnologia che la portano avanti era un cambiamento molto lento e quindi anche se c'era un cambiamento paradigmatico usando il linguaggio di kuhn non veniva immediatamente percepito e anzi si litigava perché una persona del livello di phil anderson ha scritto nell'82 un articolo sulla ricerca in cui diceva che era tutta tutta monnezza che mai il computer avrebbe portato nessuna grande idea e nessun progresso reale e poi c'è una ragione sociologica che mi piace molto e mi è stata scoperta da un mio bravo amico purtroppo non c'è più è un chimico fisico al quale avevo chiesto avevo sollevato questo problema ma perché mai non c'è storia epistemologia del nostro settore quando ce n'è così tanta di cose che in fondo a mio avviso sono state meno rivoluzionari di quanto i trombettieri abbiano preteso e lui mi ha risposto in un modo molto divertente ha detto giovanni ma i chimici sono non sono intellettuali i fisici lo sono quindi o i fisici prendono interesse a sta cosa oppure sta cosa non risuonerà e questo vi spiega perché con gianni noi abbiamo prodotto un libro ma non voglio tediare di più sono alla fine della mia del mio scursus sono convinto che questi 70 anni hanno segnato non vorrei usare perché concetto dubbi è difficile a qua rendere rigoroso il concetto di rivoluzione scientifica ma siamo lì è stato un importante shift paradigmatico cioè il paradigma di come si lavora in fisica teorica è cambiato ed è cambiato nelle sue qualità più profonde non è cambiato solo nella simulazione molecolare perché in realtà nella lattice quantum chromodynamics così come nell'astrofisica l'attività computazionale è stata fondamentale per risolvere problemi neanche neanche affrontabili se non con tecniche perturbatie molto povere prima dell'avvento del formalismo e della modellizzazione computazionale quindi in realtà stiamo davanti a una a uno shift paradigmatico quasi a raduzione scientifica e credo che sia una responsabilità nostra e vostra di dare a questo un seguito importante che direi che è tutto quello che volevo raccontarvi ora posso tornare a tutti e ti ringraziamo perché veramente molto molto interessante e c'è da riflettere io non faccio ulteriori commenti però per dare la parola al gianni battimelli diciamo li facciamo alla fine però veramente si hai ragione e merita merita diciamo grazie splendido uno smooth income però sorbetti meglio il microfono mutato questo lo avviamo adesso mi sentite giusto e poi dovresti mettere visualizza poi devo 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 fare quello che prima l'ho riuscito a fare che naturalmente ora che apre la presentazione semplicemente direttamente su powerpoint devi scegliere la presentazione e poi dirgli di stare in play insomma che siccome tu usi non usi si vede qualcosa sì e poi mi pare che l'hai fatto quindi sì sì togliere la barra alla fine dove dice nascondi magari eh no io nascondi tolgo nascondi no sì però sì e ora riapra la presentazione ok perfetto perfetto ok assolutamente allora scusate però devo tornare all'inizio non ho un'ottima idea questo mamma mia scusate ma che sta combinando beh che tu stai andando stai andando verso la fine che invece che verso l'inizio è bene fine della presentazione ma io non voglio fare la fine io voglio l'inizio sono dietro sono dietro all'inizio vale ci siamo sì sì siamo all'inizio della pagina con le rete allora eh molto no molto rapidamente no non posso dire molto rapidamente perché in realtà poi ho scoperto che ci sono un sacco di cose da dire ma ho visto anche che siamo già a un tempo abbondante di di chiacchiera e quindi eh chiedo adere di interrompermi quando abbiamo sforato no no ma in realtà comunque era già previsto un po in più perché effettivamente essendo in due era ovvio che dovesse essere così alla peggio quando siamo arrivati a un certo punto taglierò pure sarò più schematico più veloce sulla parte finale dunque comincio con un'osservazione che riprende un po le cose che di grande diceva alla fine cioè lo scarso eh la scarsa presenza di questa tematica in generale nella letteratura di storiografia di storia della scienza eh che è è vero eh ed è anche vero eh e per certi versi ti chiede quello sì un intervento diciamo eh rapido il fatto che i protagonisti della prima stagione almeno di i padri fondatori del settore stanno molto rapidamente purtroppo scomparendo e dunque un'operazione quale quella che è stata fatta negli anni sessanta quindi per l'appunto a sessant'anni dalla nascita del settore con eh la costruzione dell'archive for history of quantum physics mutatis mutandi se fatte le debite proporzioni sarebbe ben opportuno cominciare a farla perché anche qui stiamo a oltre sessanta anni dalla nascita del settore eh le varie ragioni per cui gli storici della scienza come storici si sono poco occupati di questa cosa Giovanni ne ha accennata qualcuna se ne potrebbero probabilmente dire altre ma non voglio entrare in questo di fatto quello che è successo negli ultimissimi tempi è che qualche prodotto locale di ricostruzione storica che non sia soltanto le recollections di alcuni dei protagonisti di quelli che se ne trovano un po' da tutte le parti ma insomma dei lavori che aspirano ad essere delle ricostruzioni storiche di momenti particolari in questa vicenda sono sono state prodotte e qui ne vedete una selezione che lo sia quasi esaustiva come vedete tutta roba molto molto recente tipicamente uscita sull'elopian physics journal h cioè il settore la parte diciamo dedicata alla storia di una rivista comunque di fisica non stiamo parlando di pubblicazioni largamente diffuse al di fuori degli addetti ai lavori degli interessati alla storia ma nell'ambito della comunità dei fisici e ancora direi che in tutti i lavori che vedete qui citati almeno uno degli autori se non tutti gli autori sono ancora non storici della scienza o della fisica che si sono occupati di questo originale settore ma protagonisti che hanno cercato di lasciare una documentazione di carattere storico comunque qualcosa c'è comincia ad esserci e adesso io quello che vorrei fare è in realtà semplicemente riprendere ricominciare dall'inizio dove nasce tutta questa è provare a raccontare in maniera molto schematica alcuni dei fatti e dei protagonisti di questa vicenda cosa hanno fatto chi sono nomi cognomi eventi e quant'altro e tutto comincia aveva già detto quindi non c'è prima di ripetere lì siamo la seconda guerra mondiale diciamo lo fondamentalmente il computer moderni nascono nascono nei laboratori che durante la seconda guerra mondiale hanno bisogno di potenza di calcolo per risolvere i problemi computazionali legati alla progettazione della bomba atomica essenzialmente e dintorni e qui vedete non hanno bisogno di presentazione i personaggi di questa immagine in particolare ulam è colui che nel 49 quindi finita la guerra quando comincia a porsi il problema di cosa ci possiamo fare con queste nuove macchine che ci siamo inventati e che permettono di fare per il momento diciamo solo calcoli complicati possiamo farci qualcosa di meglio e di più come quello nel 49 incogna il termine che sta ufficialmente nel titolo di un lavoro famoso del 49 del metodo monte carlo ed è l'idea di cominciare a utilizzare cosa che era già stata fatta naturalmente ma che si può essere a questo punto si pensa di cominciare ad estendere ad altri situazioni di interesse fisico in cui la potenza di calcolo è rilevante tecniche di calcolo delle grandezze tipiche e le grandezze medie di un sistema utilizzando un metodo che è appunto il metodo monte carlo di campionamento casuale di repliche del sistema e facendo le opportune operazioni di media che portano i risultati desiderati la parola monte carlo si stabilisce dall'ora in poi in laboratori in cui questa è la prima cosa importante ricordare anche se si comincia a usare le nuove macchine per fare altro rispetto a quello a ciò per cui erano state usate fino a quel momento quello continua ad essere la motivazione principale per cui queste macchine vengono prodotte e in funzione delle quali vengono usate è vero che la guerra è finita ma scoppiata la guerra fredda e la domanda di calcolo necessario per progettare le bombe termonucleari è di un ordine di degradezza superiore a quella che era stata necessaria pochi anni prima per fare la tonica quindi ancora e ancora per un tempo significativamente lungo le nuove macchine sono progettate pagate e inviate nel laboratorio degli stati uniti nei laboratori in cui si lavora fondamentalmente a fare fisica di guerra insomma allo salamos subito dopo la guerra libermo laboratori che appendice dedicata specificamente alla progettazione delle armi termonucleari della del berkeley laboratori di berkeley va da sé faccio vedere solo ogni tanto alcune immagini ma non sto a raccontare qualche ovviamente tutta questa storia nel suo sviluppo concettuale dei risultati che riesce a raggiungere va di pari passo con l'aumento della potenza di calcolo dei computer che a loro volta sono è di per sé come dire un titolo interessante affascinante della storia della tecnologia come si arriva nel giro di pochi anni a far crescere di qualche ordine di grandezza giovanni menzionava i 18 ordini di grandezza di cui è cresciuta la potenza di calcolo dei computer dalle prime macchine come questa usate alla fine all'inizio degli anni cinquanta nei laboratori di lo salamos alla potenza dei computer attuali ma già nel breve arco di tempo che in cui nasce comincia a sviluppare il settore della simulazione i pochi relativamente pochi ordini di grandezza di cui cresce la capacità di calcolo dei computer consentono comunque di fare cose impensabili fino a poco tempo prima tutta questa dinamica ingegneristico tecnologica sta sullo sfondo dell'elettronica transistor al super computer eccetera nel 1953 il giovanni l'ha menzionato ampasin viene elaborato e qui non c'entrano più le finalità militari della della cosa una variante intelligente del metodo monte carlo generale che consiste nel diciamo lo sviluppo di un algoritmo che va poi sotto il nome di algoritmo di metropolis ma che come è argomentato in un lavoro da cui ho tratto questa slide è in realtà dovuto piuttosto a marshal rosenbluth il personaggio che vedete sulla sulla destra che sostanzialmente risolve con problemi in prima approssimazione non tutti sono convinti che funzioni ma comunque lì nasce l'idea di utilizzare questa tecnica che in generale consiste appunto nel costruire in maniera random co numerose dove numerose vuol dire sempre più numerose copie mentali se volete il sistema sottostudio per poi farne opportune medie da cui ricavare le proprietà fisiche di interesse il problema è che quando si passa a sistemi fisici interessanti tipicamente studiati dalla meccanica statistica c'è la difficoltà di capire e poi implementare in termini di linguaggio macchina e farlo fare al computer in maniera intelligente come pesare le differenti repliche del sistema che vengono prodotte in modo casuale e su cui poi si fanno le medie significato statistico la probabilità con cui vanno pesati i differenti stati l'algoritmo di metropolis è il primo passo in questa direzione e a partire da questo viene utilizzato come tecnica una delle tecniche che sarà implementata perfezionata eccetera a partire da questo momento per calcolare proprietà alla Gibbs diciamo dei sistemi fisici di interesse a questo punto pare sulla scena il primo protagonista della faccenda l'uomo la persona a cui per quanto discutibili siano queste attribuzioni di priorità si può ragionevolmente accreditare come dire l'invenzione della dinamica molecolare Bernie Alder è un giovane di formazione chimico altra cosa interessante la dico qui perché poi farà di presenziamento in seguito già Giovanni in qualche modo gli faceva cenno questa storia ha alcune caratteristiche presenta alcune problematiche che sono di interesse generale per la storia della scienza in toto insomma una di queste è come le novità le innovazioni idee emergono quando si incrociano tradizioni disciplinari finora mantenute separate da steccati disciplinari accademici o quant'altro questa non è una storia che nasce all'interno della fisica teorica anche se poi il nostro argomento è che finisce per diventare a tutti gli effetti fisica teorica Alder non è un fisico teorica un chimico di formazione comincia a interessare a queste inizioni arriva durante la guerra in california finisce dentro laboratori militari comincia a collaborare con persone che lavoravano in california all'uso dei computer per le storie di guerra ma è anche uno che ha parato la chimica fisica e quindi poi si è avvicinato alle questioni di meccanica statistica studiando con John Kirkwood che è uno dei grandi papà e padre ma nel senso migliore del termine ovviamente uno dei grandi fisici terrorici meccanica statistica dell'epoca e che tipicamente come tipicamente nel senso che questo era un atteggiamento diffuso all'inizio nei confronti di questi primi tentativi di usare il computer per fare le cose era piuttosto diffidente sull'utilizzazione delle tecniche di Monte Carlo che circolavano all'epoca tipo appunto di metropoli su Monte Carlo perché riteneva e forse all'inizio con buone ragioni che fossero dal punto di vista dei loro fondamenti probabilistici piuttosto non affidabili e come racconta appunto alcune di queste situazioni sono tratte dalle dalle memorie di alber lui comincia a fare fa esattamente più o meno elabora più o meno lo stesso algoritmo elaborato da metropoli si prova con un collega fra anche la fare qualcosa ma kirkwood è scettico sul fatto che questo cosa funzioni e come giustamente dice alle no tu non pubblichi qualcosa che in cui il tuo boss non crede e quindi va da un'altra parte e inventa che si rivolge comincia la collaborazione con quest'altro questo è un fisico invece un fisico in realtà specialista però in idrodinamica e che quindi anche lui poco addentro alle questioni specifiche di meccanica statistica all'epoca ma con cui alde stabilisce una collaborazione che durerà una quindicina d'anni circa e l'idea e nasce l'idea della dinamica di quella che poi si chiama da subito dinamica molecolare cioè il problema è va bene chi non ci crede che possiamo calcolare le proprietà delle di un certo sistema quale che sia facendo usando il monte carlo perché non è ben definito un punto di vista concettuale fondamenti probabilistici della cosa sono discutibili facciamo un'altra cosa vediamo se è possibile semplicemente infischiarcene delle copie mentali e delle tutti i problemi delle cartiene marcofiane queste cose qua facciamo una cosa di questo genere proviamo a farlo e forse possiamo farlo adesso che abbiamo il computer a mettere dentro una scatola n particelle gli diamo le condizioni iniziali lasciamo evolvere il sistema e calcoliamo l'evoluzione nel tempo attraverso le leggi della dinamica del di cosa fa questo sistema e vediamo che cosa succede io ho detto dice alle proviamo a vedere se possiamo fare newton fare newton significa esattamente fare questo implementare si può fare all'epoca si può cominciare a fare naturalmente all'epoca prendere un sistema e farlo evolvere nel tempo e controllarlo calcolando attraverso la potenza di calcolo del computer la sua traiettoria nel tempo significa di fatto limitarsi a qualche decina di palline che non interagiscono fra loro se non sbattendo con collisioni elastiche per il resto si muovono liberamente quindi il sistema un sistema del tutto non realistico non ha nessuna controparte nel mondo reale è un modello idealizzato il più semplice possibile in cui voi vi riducete a trattare il moto l'evoluzione di appunto un insieme di palle da biliardo elastiche che sbattono tra loro e questo tutto sommato per un tempo molto breve quanto ma nelle prime elaborazioni di wayne wright e alder si parla di calcolare il tempo che queste palline facciano in media tre o quattro collisioni cioè qualcosa dell'ordine di 10 alla meno 10 10 alla meno 11 secondi una cosa del genere ma quello che scoprono facendo questo è che questo è sufficiente per vedere già una serie di cose interessanti che a è possibile farlo e b si comincia già a vedere fisica qui ci sono va bene non dovrò inter darvi tutte le cose i lavori i primi sono i lavori prodotti da fondamentali prodotti da alder e wayne wright nel frattempo allo salamos un altro discepolo di kirkwood wood con i suoi collaboratori aveva risolto i problemi concettuali diciamo di carattere fondamentale di probabilità che preoccupavano kirkwood e grosso modo nello stesso periodo alla fine del 57 entrambi i gruppi gruppi che poi sono gruppi fatti da due persone alder e wayne wright a livermore e wood e collaboratori a los alamos utilizzando i primi la dinamica molecolare che hanno appena inventato e i secondi il metropolis monte carlo arrivano a dimostrare e a risolvere un problema su cui la comunità dei fisici teodici dei meccanici statistici ancora non era riuscita a dare una soluzione approcciandola con le tecniche di approssimazione analitiche tipiche del mestiere cioè l'esistenza o meno di una transizione di fase liquido solido in un sistema di sfede rigide per l'appunto il sistema che alder e wayne wright trattano questa è una foto famosa famosa per chi ha un po inseguito queste cose nel 56 è una conferenza internazionale sui fenomeni irreversibili fenomeni di trasporto in meccanica statistica a bruxelles qui dentro si vanno alcuni dei personaggi che vedete in questa immagine sono i grandi nomi della meccanica statistica a parte maria goeppert mayer questo è de jean ilia prigogine lars onzager leo van hove nel gruppo qua dentro non riesco nemmeno più riconosce ma ci punta c'è kirkwood da qualche parte c'è joel lebo viz cioè è come dice il giovane alder che va a questa conferenza eccolo qui è lui io era un pischeletto presuntuoso sostanzialmente in mezzo a tutti questi giganti ma la sua comunicazione sui risultati preliminari ottenuti facendo sbatacchiare palline dentro il computer impressiona perché funziona e funziona vuol dire che si vede per esempio quello che loro sono in grado di far vedere seppure con i numeri limitati i componenti del sistema e di tempo di evoluzione e sono in grado di controllare all'epoca è che a partire da una configurazione qualsiasi di nuovo l'equilibrio balsamana aveva ragione la funzione h si può calcolare e in tempi molto molto rapidi non è necessario attendere a lungo il sistema collassa verso l'equilibrio gli rimane e cose di questo genere e quindi anche kirkwood è tutto contento è nata la dinamica molecolare in senso proprio le macchine migliorano non vi sto a far vedere i dettagli queste naturalmente c'è una competizione collaborazione fra i laboratori che all'epoca primi e fine anni cinquanta significa ancora quasi solo due posti al mondo lo salamos dove tutto è nato in qualche modo e livermore dove lavora alder che è l'altro grande laboratorio funzionale alla ricerca applicata a fini militari all'epoca e qui in cui quindi si investono i fondi necessari per acquisire e costruire modelli sempre più perfezionati dei dei computer e qui c'è un'altra cosa interessante di nuovo un tema di carattere di interesse generale che va al di là della curiosità specifica per il problema della simulazione è questa dinamica per cui il lavoro a questi laboratori crescono impiegano sempre più gente domandano sempre più denaro all'atomic energy commission per avere macchine sempre più performanti giustificando queste domande col fatto che le richieste della ricerca per stare avanti nella competizione fredda con l'unione sovietica richiedono calcoli sempre più complicati queste macchine vengono di fatto prodotte inventate prodotte e acquisite ma quel punto bisogna farle funzionare perché bisogna giustificare la spesa siccome non sono di fatto utilizzate a tempo pieno per l'obiettivo ufficiale dei laboratori che è quello di fare calcoli legati alla produzione di bombe i dirigenti dei laboratori in particolare dirigenti dei centri di ricerca di questi laboratori sono ben contenti di lasciare utilizzare questi computer a ricercatori del loro centri che li utilizzano per cose che non hanno più nulla a che vedere come per esempio per appunto le curiosità di carattere di tutt'altra natura insomma di di gente come alder che quindi riescono a infilarsi dentro il nella richiesta di tempo macchina di utilizzo di tempo macchina molto facilmente perché questo aiuta a dimostrare che i computer funzionano a tempo pieno e che quindi è necessario passare alla prossima generazione eccetera eccetera questa interplay tra la domanda originaria e poi di fatto la ricaduta delle potenzialità così messe in campo in direzioni che non sono quelle originariamente progettate. Negli anni immediatamente dopo questa cosa sempre grazie in particolare al lavoro di Alder e Wayne Wright ha successo si diffonde ed è qui c'è questa citazione tratta da un lavoro di Alder da una citazione dal fine anni cinquanta inizio anni sessanta in cui si dicono due cose che di nuovo sollevano due tipi di problemi interessanti la prima è è una questione che per molto tempo ha come dire agitato e interessato chi sviluppava questo tipo di di approccio che cos'è la fisica computazionale in generale quella che stiamo facendo noi adesso anni cinquanta allora tra teoria e esperimento dove sta questa cosa per molto tempo ora non abbiamo nessuna difficoltà Giovanni l'ha detto molto chiaramente a riconoscere che quello che si fa nella fisica computazionale nella dinamica molecolare per esempio è a tutti gli effetti e a pieno titolo fisica teorica ma questa è una cosa che all'epoca i fondatori di questo approccio hanno molta difficoltà o a riconoscere o a dichiarare esplicitamente perché c'è diffidenza ancora da parte della fisica teorica tradizionale nei confronti di questo ambiguo e discutibile per molti ruolo che il computer deve giocare nell'avanzamento della conoscenza e infatti qui parla molto spesso nei titoli degli articoli stessi e nella presentazione che ne viene fatta di esperimenti di laboratorio cos'è si parla spesso della dell'utilizzo del computer nel come di una sorta di terza via tra la fisica sperimentale tradizionale e la fisica teorica propriamente detta laboratorio computer experiment è un termine che si trova spessissimo in tutti i lavori fino a tutti gli anni sessanta per indicare questo tipo di approccio ma man mano ci si rende conto in realtà c'è molto di computer e c'è poco di experiment perché ciò che viene sperimentato dentro una simulazione non ha nulla a che vedere con il mondo materiale non ci si mette l'acqua dentro il bm 704 ci si mette un modello teorico che si suppone riproduca le caratteristiche dell'oggetto fisico che si vuole studiare e poi si buttano dentro le equazioni che si suppone descrivano correttamente il comportamento di quel modello e si fa e si tirano fuori le conseguenze di quelle equazioni quindi è tutti gli effetti in realtà appunto fisica teorica perché questo sia dichiarato bisogna che esplicitamente che non stiamo facendo un surrogato dell'esperimento ma un potenziamento della teoria occorre aspettare che tutto ciò sia saldamente consolidato e questa cosa tipicamente chiede tempo come tutte le novità che nel processo del crescita scientifica si creano all'intersezione tra settori disciplinari che prima non comunicavano che si guardavano con sospetto e la seconda cosa che è importante della di questa breve citazione di alder è che lui lo dice chiaramente quando avremo un numero una quantità sufficientemente grande abbastanza grande di computazioni numeriche forse riusciremo a vedere generalizzazioni che oggi non riusciamo a vedere cioè la computazione può non solo aiutarci a risolvere calcoli complicati ma può dirci qualcosa di nuovo sul mondo che stiamo studiando e terza cosa che appare molto interessante anche questa di nuovo un prodotto abbastanza immediato che contribuisce sicuramente moltissimo alla diffusione e all'accettazione dell'idea della computazione della dinamica molecolare in particolare è la possibilità attraverso il computer che viene subito sviluppata da alder e collaboratori di visualizzare ciò di cui si sta parlando qui vorrei fare un riferimento rapidissimo a un testo che sicuramente è familiare a tutti il testo di Peter Galison su Image and Logic in cui tra le tantissime cose di cui si parla dove non si parla di fisica computazionale se non con un breve accenno ma che non riguarda comunque la simulazione molecolare però Galison mette l'accento su due tematiche che sono particolarmente pregnanti nella storia di questa cosa che ci interessa qui uno, quelle che lui chiama la trading zone è il modo in cui si realizza questa cosa apparentemente che sfugge all'epistemologia tradizionale cioè di come si riesca a far funzionare perfettamente alla fine e producendo conoscenza, producendo risultati scientifici marchigenni complicati in cui si mettono insieme discipline, competenze linguaggi che vengono da aree completamente estranee l'una all'altra inizialmente che pure in qualche modo riescono a comunicare nel caso specifico programmatori di computer, esperti di linguaggio macchina costruttori di computer, fisici statistici, chimici fisici, c'è l'ire di Dio insomma, biofisici a un certo punto arriveranno eppure la convergenza di queste cose crea alla fine la nuova disciplina che si sta formando e l'altra che è nel titolo stesso del libro di Galison Image and Logic, le due maniere in cui convinciamo il mondo che le cose che stiamo facendo hanno senso e da questo punto di vista l'image è fondamentale e l'imaging, le foto, le immagini che il computer riesce a fare e a far vedere sono un'arma fondamentale per convincere molti di quelli che erano restri c'è questa bellissima citazione sempre tratta da una delle interviste, doveva rilasciare la Alder in cui lui fa vedere appunto, queste sono immagini al computer che mostrano la transizione dal sistema sostanzialmente regolare, solido, di sfere dure a quello in cui le particelle cominciano a andare su tutte le parti e passano allo stato liquido e Mark Katz, grande probabilista e meccanico statistico dell'epoca che alla fine dopo un'ora di seminario gli dice ma voi avete parlato per un'ora, fateci vedere foto e ci hai convinto a tal punto che molto rapidamente queste immagini finiscono ad avere anche poi una ricaduta pedagogica in senso stretto questo probabilmente, io ci ho studiato qualcosa, è il quinto volume del corso di fisica di Berkeley che esce nel 60, all'inizio degli anni 60 insomma e in copertina ci sono le immagini tratte dalle simulazioni al computer realizzate da Alder e Weinwright in cui si vede l'approccio all'equilibrio, il problema è l'irreversibilità, sarà l'espansione libera di joule se volete per un gas, virgolette, di sfede rigide che quindi non è un gas, è un modello ideale ma che comunque mostra, e queste non sono un disegno ma sono le immagini ottenute dal computer fotografando l'evoluzione temporale calcolata rigorosamente delle particelle inizialmente confinate in una parte del contenitore che poi vengono lasciate liberi da espandere eccetera altro tema interessante di tutta questa storia che è sotterraneo, netificamente, nelle vicende che poi vengono portate all'attenzione del pubblico a parte questa bella citazione di Hoover che è uno che poi si mette a lavorare con Alder e poi tra contributi, lo vedremo più tardi, in dinamica molecolare ma in cui dice la differenza tra Monte Carlo e dinamica molecolare Hoover aveva l'alternativa quando comincia a fare il suo mestiere insomma diciamo di scegliere tra se andare a collaborare allo Salamos con un gruppo insomma che lavorava essenzialmente su Monte Carlo oppure rivolgersi piuttosto all'approccio dinamica molecolare e lui contrappone in maniera che è bellina da vedere a lui interessava di più vedere il movimento governato dalle equazioni differenziali cioè Boltzmann all'opera, Newton come diceva Alder insomma l'evoluzione temporale effettiva del sistema piuttosto che osservare mosse effettuate secondo un algoritmo di Monte Carlo per quanto furbo fosse questo algoritmo dietro ci sono tutta una serie poi anche ovviamente di preferenze personali reticenze dovute a valutazioni che poi spesso si rivelano infondate a distanza di pochi anni sulla praticabilità o meno su dove si può arrivare seguendo certe cose e poi dietro tutto questo ci sono programmers ci sono le macchine e va bene queste crescono di potenza di calcolo ci sono le persone che inventano algoritmi astuti per insegnare alle macchine a fare quello che noi a mano non siamo capaci di fare ma poi ci vuole qualcuno che prenda queste istruzioni e si è in grado di farle digerire alla macchina e mettere le macchine in condizioni di lavorare ci vogliono la mediazione dei programmatori per l'appunto che sono quelle persone che vengono tipicamente ringraziate in coda all'articolo pubblicato sulla Fisica Review dicendo ringraziamo tipicamente sono donne tipicamente laureate in matematica che sanno e imparano il linguaggio macchina e poi i linguaggi di programmazione e che sono in grado di tradurre e far capire e quindi istruire la macchina affinché faccia quello che il fisico teorico o il chimico fisico o chi per lui che sta dietro le spalle vorrebbe che facesse ma che non sa come fargli fare questo è un personaggio una delle persone di testa vastissima schiera di anonimi ma fondamentali collaboratori all'impresa scientifica diciamo così che sono appunto i programmatori Marianne Mansaig che recentemente ha rilasciato anche ci sono delle bellissime cose in cui lei ricorda gli anni in cui ha cominciato diciamo alla fine degli anni 50 insomma lei è una delle primissime collaboratrici di Wayne Wright questa è una bella immagine qui ci sono appunto Marianne con Alder e Wayne Wright che guardano le immagini generate al computer che mostrano una transizione di fase in un sistema di rischi rigidi ma la cosa divertente è di nuovo e qui ritorna un po' il problema che in generale sollevava Peter Gallison di cui ho parlato all'inizio in questa bella questa è una foto di pochi anni fa in cui c'è Marianne con Dan Frank che è uno dei protagonisti di questa storia in cui lei dice io veramente io sapevo fare sì sapevo dare le istruzioni al computer al Bernie mi diceva cosa volevo dirgli io glielo dicevo e lui faceva ma che cosa fosse la fisica che stava dentro le istruzioni che Bernie mi dava io non avevo la benché minima idea è molto divertente la parte finale di questa una delle cose interessanti è che oggi tutti parlano di simulazione io non ho mai sentito questa parola tutto il tempo che ho lavorato con lui Marianne non ha mai sentito la parola simulazione ma sta di fatto che se la simulazione ha funzionato e grazie anche al suo contributo ecco il contributo delle persone di coloro che come lei stavano a svolgere questa funzione di mediazione fondamentale tra la testa dei fisici teorici e l'hardware della macchina che doveva fare i conti vado veloce perché sarebbe molto divertente raccontare anche questa storia che è il risultato successivo tenuto importante dalla coppia Alder Wayne Wright perché una delle cose che si divertono a fare e questo lo dicono chiaramente grazie al fatto che nel frattempo il frattempo sono circa una decina d'anni la potenza di calcolo a disposizione è aumentata al punto per cui si possono fare certe cose che dieci anni prima non si potevano fare beh si possono calcolare farlo si divertono a calcolare a lasciare andare un sistema sempre di sfere dure e calcolano perché a questo punto il computer lo sa fare le funzioni di correlazione della velocità nel tempo l'aspettativa generale di tutti i meccanici statistici dell'epoca era che molto rapidamente che la funzione di correlazione tra velocità di particelle diverse dovesse decadere esponenzialmente perché alla scala microscopica il processo è sostanzialmente un processo stocastico e quindi non si vede cos'altro debba fare mentre è noto che alla scala macroscopica si creano invece strutture coerenti vortici e cose del genere che mostrano l'esistenza di correlazioni lunghe sulla scala macroscopica c'è tutto il problema dietro che ha sempre interessato Alder a partire da questo momento di dov'è che si situa il boundary la transizione e che cosa c'è in mezzo tra la scala microscopica in cui studio qualche un sistema formato da poche molecole che si muovono in cui mi aspetto che tutto avvenga in modo rigorosamente casuale e la scala macroscopica quella dell'idrodinamica macroscopica cui invece appunto stervo strutture coerenti il risultato e questo è un risultato nuovo e inatteso che emerge dalla simulazione che non era che era in qualche modo come dire scritto nelle equazioni fondamentali ma non calcolabile a mano e per cui quindi non c'era alcuna aspettativa e quando il risultato di Alder e William Wright viene pubblicato loro sono i primi a non crederci finché non si convincono che invece la cosa funziona e che questa è un'indicazione teorica significativa vuol dire che l'idrodinamica ecco lo dice qui che l'idrodinamica si applica quasi fino al tempi alla scala dei tempi dell'energia cinetica vecchia storia che risale appunto al problema antico dibattuto da Boltzmann e Mac il continuum verso l'atomismo e dove e come le leggi fenomenologiche del mondo macroscopico se e come e fino a che punto sono riducibili alle leggi fondamentali che si suppone Mac non ci credeva Boltzmann ovviamente ci credeva alla scala microscopica insomma quindi è un esempio di quella cosa che beh Alder diceva prima quando avremo abbastanza potenza di calcolo i computer non si limiteranno forse solo a farci fare più rapidamente i conti ma ci faranno vedere cose che prima non eravamo capaci di vedere e a questo punto il passo avanti beh ci sono vari passi avanti possibili Alder ne annuncia uno ma che di fatto lui concretamente non realizza quello di passare dalla da modelli interessanti trattabili in modo rigoroso quelli che lui e Wainwright hanno utilizzato come sfere dure ma che non sono sono degli un physical models quindi non esistono i sistemi di sfere dure nel mondo materiale quello che esiste nel mondo materiale sono gas aggregati di molecole oggetti complicati che interagiscono fra loro non come palline che sbatacchiano ma in maniera molto più complessa quindi il prossimo passo potrebbe essere la simulazione di sistemi reali che possono essere confrontati poi con i risultati di esperimenti reali sui sistemi fisici effettivi e quindi l'obiettivo sarebbe di introdurre potenziali realistici nei calcoli per riprodurre esperimenti di sistemi sempre più complessi di fatto questo non lo fa Alder e poi vedremo anche alcune delle ragioni perché se c'è tempo il primo passo fondamentale qui vado rapidamente per tappe essenziali e protagonisti fondamentali viene da questo fisico chimico di nuovo è difficile dargli un'etichetta precisa indiano che finisce negli Stati Uniti Argon si appassiona ed è un maghetto dell'invenzione di algoritmi intelligenti per calcolare sistemi fisici reali e che nel 64 realizza la prima simulazione al computer non di un sistema astratto e insignificante dal punto di vista fisico come le sfere rigide di cui prima ma studia la correlazione del movimento di atomi nel largo liquido e largo è il sistema più semplice possibile fisicamente elevante perché è un gas è monoatomico quindi è la struttura atomico molecolare più semplice ma comunque è già un oggetto fisico ben definito che interagisce con gli altri oggetti che stanno intorno a lui attraverso un potenziale che tipicamente è ancora un potenziale fenomenologico naturalmente Emma Jones o cose di questo tipo ma il successo di questa prima simulazione dell'argon liquido porta in giro in tempo relativamente breve a fare un passo avanti significativo perché dall'argon che è un modello reale un sistema fisico reale molto semplice si passa alla prima simulazione in dinamica molecolare dell'acqua l'acqua è già una faccenda più complicata da una parte è interessante dall'altra perché è il fondamento controllare la dinamica dell'acqua allo stato liquido significa aprire la strada a un enorme ventaglio di potenzialità teoriche applicative è divertente una cosa per dire tornare sul tema delle competenze diverse che si incrociano che quando si racconta questa storia che ho sentito citata più volte anche se non ho mai trovato esattamente la referenza che è una delle prime conferenze tipicamente sono frequentate da personaggi che vengono da ambiti disciplinari contigui in cui Raman racconta i suoi risultati sull'Argon qualcuno dall'audience un fisico teorico noto tra l'altro non mi ricordo chi era insomma non ha importanza alza la mano e dice Anes guarda che hai fatto fantastico tu hai simulato l'ensemble microcanonico Raman se lo guarda e dice che cosa ho fatto non aveva benché minima idea della meccanica statistica e del tipo di problema che la sua simulazione aveva però di fatto realizzato e che viene subito percepito come un passo avanti nella possibilità di far avanzare la teoria della meccanica statistica utilizzando il computer in questi stessi anni fine anni 60 queste tecniche che sono nate nei laboratori pensati fondamentalmente per la guerra fredda negli Stati Uniti grazie allo sviluppo dei computer la dinamica sociale di politica scientifica generale più complesse passa dagli Stati Uniti in Europa alcuni di questi protagonisti sono uno di questi protagonisti importanti e questo è un fisico teorico invece di tutti gli effetti Luverle sta ad Orsay è il direttore del laboratorio di studi di fisica e altre energie nasce come un fisico teorico di particelle elementari ma a metà degli anni 60 va negli Stati Uniti a lavorare con Joel Ebovitz lì viene a conoscenza dei lavori di Raman si appassiona nel caso di dirlo all'approccio alla Raman implementato dalla sua competenza specifica però di fisico teorico che sa perfettamente la meccanica statistica e comincia a sviluppare di suo e di nuovo vedete nel titolo computer experiments ormai tra virgolette perché in realtà sono esperimenti questi la cosa è dubbia naturalmente e comincia a sviluppare e sviluppa in particolare un algoritmo particolarmente efficiente che poi appunto l'algoritmo di Verlet e alcune altre implementazioni di calcolo che permettono di ridurre i tempi di calcolo e quindi migliorare le capacità predictive della macchina che si è messa in moto le trasporta in Francia dove dirige un laboratorio che dirige un laboratorio di ricerca appunto a Orsay e mette su un gruppo che diventerà uno dei gruppi importanti che manderanno avanti la simulazione molecolare in Francia e mentre succede questo a Orsay giù dove c'è il laboratorio di Verlet un po' sopra nasce quest'altra struttura comincia a vedersi anche una dinamica interessante dal punto di vista come dire della costruzione di strutture istituzionali il CECAM che si chiama dall'inizio centro europeo di calcolo atomico e molecolare quella che vedete qua nella foto è la sede attuanzi in realtà non è questo il CECAM il CECAM occupa un piccolo pezzo di questo grosso edificio delle Corpo di Technique di Rosanna attualmente quando nasce è sostanzialmente l'ufficio che si trova a Orsay poco sopra il laboratorio dove lavora Verlet inventato da questo signore che vedete sulla destra Karl Moser un chimico americano trapiantato in Francia che ha l'idea approfittando della disponibilità data da un centro di calcolo che esisteva ad Orsay che il CNRS aveva appena cominciato a sviluppare di inventarsi una struttura del tutto informale in cui l'idea è quella di mettere insieme ricevendo per questo finanziamenti dagli organismi di ricerca dei vari paesi europei ricercatori interessati a tutto ciò che abbia a che fare con calcolo in via di principio e che non hanno però nelle loro sedi accademiche o istituzionali di appartenenza la disponibilità in loco della potenza di calcolo necessaria per fare quello che vorrebbero fare il deal diventa il SECAM funge da interfaccia diciamo tra gli interessi scientifici che richiedono calcolo dei vari paesi europei i quali mandano i loro ricercatori e pagano per questo a Orsay e ricevono in cambio la capacità di tutta possibilità di utilizzare le macchine che il SIRS è il centro interdisciplinario di ricerca di calcolo elettronico del CNRS mette a disposizione la cosa funziona all'inizio non è strettamente vincolata anzi affatto alla simulazione molecolare in quanto tale Moser è interessato a tutto ciò e offre le potenzialità del suo centro a tutti coloro che sono interessati che hanno comunque bisogno di potenza di calcolo dalla fisica del plasma all'astrofisica alla fisica nucleare ai chimici quantistici e chi più ne ha più ne metta ma di fatto quello che succede è che a partire già dai primi anni 70 uno dei settori chiave per cui il CECAM diventa un punto di riferimento essenziale per l'Europa per gli ricercatori europei è per appunto la simulazione molecolare e Herman Berenson è uno dei protagonisti tra i tanti di Kirti che animano le attività del CECAM qua inventa in particolare una modalità di aggregazione dei ricercatori che si rivela estremamente efficiente che è quella di organizzare i workshop termine allora non tanto usato quanto oggi ma i workshop del CECAM iniziali almeno sono una cosa molto particolare significa definire un tema di ricerca che richiede computer e potenza di calcolo e su questo tema chiamare a raccolta gli specialisti interessati per un periodo di tempo lungo in cui si vive insieme si fa ricerca insieme e si discute il problema al periodo di tempo può essere tipicamente di un mese ricercatori italiani inglesi si convergono a Orsay e per un mese di fila usano le macchine del centro di calcolo adiacente e discutono i problemi che si congono all'intersezione delle discipline di appartenenza nel 71 come abbiamo visto esce il lavoro fondamentale di Raman e Stillinger sulla simulazione dell'acqua l'anno dopo nel 72 uno dei primissimi workshop organizzati al SECAM ha come tema esattamente questo metodi precisi per il calcolo di Monte Carlo in dinamica molecolare dell'acqua e what next e questo è molto divertente perché è interessante vista a posteriori questo è esattamente il disegno scritto ma non manoscritto diciamo da Berenson di quello che è ragionevole o è desiderabile aspettarsi a partire da ora che siamo qui a parlare dell'acqua delle prime simulazioni dell'acqua e verso dove possiamo andare beh non c'è tempo di leggere tutto ma se uno guarda quello che è successo poi negli anni successivi questa previsione di Berenson si rivela molto accurata di fatto questo è quello che succede fondamentalmente è bella mi piace questa citazione tratta dal suo discorso del 72 quando pubblica questo lavoro dove vogliamo andare vogliamo andare alla simulazione di macromolecole della biologia del mondo complesso che ci abbiamo davanti allora il primo passo l'acqua è la tappa fondamentale se non riusciamo a fare questo non andiamo a nessuna parte ma se si può allora il problema non è risolto palesemente sarà molto più complesso ma non è più complicato perché sappiamo come aggredire sistemi di questo tipo e questo è quello che succede quattro anni dopo nel caso specifico della previsione di Berenson i tempi sono davvero stretti quattro anni dopo il workshop sull'acqua nel 76 si organizza un immenso workshop di due mesi qui torna il tema appunto vedete detto molto chiaramente sempre da Berenson di come sia al tempo stesso difficile ma fondamentale mettere insieme competenze diverse qui ci stavano fisici teorici simulatori che attenti come dire alle caratteristiche di rigore matematico per quello che era quello dell'epoca degli algoritmi implementati ma cui probabilmente poco importava direttamente delle implicazioni biofisiche di tutto ciò e invece i crude biofisicists che non sapevano niente magari di matematica ma che volevano capire e impadronirsi di un mezzo che permetteva di andare molto più a fondo nel controllo dei sistemi del loro interesse il workshop del 76 fa epoca e saltando tra uno dei protagonisti nel senso che era lì insieme ad altri Martin Karpus e nel 2013 prende il premio Nobel per la chimica in generale per le sue ricerche di biofisica sulle proteine ma dice esplicitamente che nel workshop del 76 in cui per la prima volta qualcuno è riuscito a realizzare la prima simulazione in dinamica molecolare di una proteina è stato fondamentale per aprire la strada verso quella verso poi l'assegnazione del Nobel anche se delle motivazioni del Nobel a Karpus Varsher e Levitt non è menzionato esplicitamente il ruolo giocato dalla dinamica molecolare ma Karpus lo riconosce effettivamente così come riconosce il ruolo fondamentale che ha avuto da questo punto di vista il centro il CECAM insomma questa aggregazione di competenze e persone diverse da varie località europee centrate intorno alla possibilità computazionale offerte a Parigi a Orsay alcuni dei personaggi e attraverso il CECAM passano di fatto e si formano molti di quelli che daranno poi contributi importanti agli avanzamenti della simulazione molecolare per tutti gli anni 70 e successivi uno di questi Dan Frenkel è quello che abbiamo visto prima nell'immagine insieme a Marianne Menzai che qui è un giovane Dan Frenkel che parte da Amsterdam dove stava per andare a imparare il mestiere sostanzialmente al CECAM e che lì si diverte a studiare tra altre cose dei contributi importanti sui cristalli liquidi simulazione di cristalli liquidi cioè come si creano attraverso l'interazione tra oggetti di questo tipo le strutture di ordine che caratterizzano le diverse fasi di aggregazione dei cristalli liquidi e molte altre cose di cui non c'è tempo da dire e poi veramente questa tecnica esplora in tutte le direzioni possibili e immaginabili sempre avendo nel CECAM i punti di incontro interessanti ci sono per esempio il problema di estendere l'applicabilità della dinamica molecolare a sistemi diversi da quello che Raman non sapeva cosa fosse il microcanonico tipicamente una scatola vuota in cui mettete delle palline o delle molecole o delle cose a interagire fra loro e a volvere è un sistema in cui è fissato il valore dell'energia e questo significa dal punto di vista della meccanica statistica lavorare nel microcanonico ma uno può essere interessato a studiare l'evoluzione o le proprietà di ogni sistema tenuti per esempio a temperatura costante che significa passare in linguaggio della meccanica statistica dal microcanonico al canonico di fatto significa che voi dovete consentire al sistema che state studiando la cui evoluzione o i cui campionamenti state effettuando con computer di scambiare energia con un termostato e tutto questo come si fa a farlo facendolo capire e facendolo calcolare a un computer Nose questo fisico giapponese chimico giapponese e poi Bill Hoover che è quello che abbiamo già visto menzionato prima che implementa un po' la tecnica grazie a un incontro fatto con Nose proprio a uno degli altri workshop del CECAM che producono da questo punto di vista dei lavori da cui poi parte tutta una serie di cose ma sono i lavori fondamentali a metà dell'84-85 e il 76 che è l'anno famoso del grande workshop del CECAM sulle proteine è anche l'anno in cui compare il primo prototipo di CrayOne che fa di nuovo fare un salto significativo di potenza di calcolo alle macchine a disposizione e qui è interessante tornare alle a queste non c'è tempo di leggere ma insomma delle cose che dice di nuovo Alder Alder sta dicendo sostanzialmente sì all'epoca vuol dire metà anni 60 sarebbe stato interessante passare a discutere sistemi reali abbandonando le sfere rigide ma in realtà a me non interessava poi tanto farlo perché ero convinto che la limitazione nei mezzi di calcolo e non è solo questo ma anche questo non permettesse di andare al di là dell'introduzione nella dinamica dei sistemi sottostudio di potenziali fenomenologici che non sono fondamentalmente interessanti perché sono delle approssimazioni poco significative e quindi non ci importa niente sostanzialmente di tutto questo un calcolo rigoroso in cui si tiene conto davvero delle interazioni è fuori scala e quindi io mi sono messo a fare altro e poi vedremo che cosa altro ha fatto ma invece lui viene immediatamente smentito perché esattamente questo succede poco dopo grazie ai nuovi super computer quella potenza di calcolo è disponibile e si può fare la cosa che menzionava Giovanni prima andare a sostituire i potenziali fenomenologici con una ricostruzione ab inizio dalle leggi fondamentali dai potenziali di interazione veri mettendo insieme come fanno Carr e Parlinello nell'85 grazie a potenza di calcolo aumentata da un lato e idee intelligenti naturalmente dall'altro in cui si mettono insieme la competenza nella density functional theory di Carr e l'abilità di simulatore diciamo di Parlinello adesso sto schematizzando un po' per inventare una tecnica e implementare un algoritmo che permette di ricostruire bypassare diciamo la difficoltà che a torto o a ragione Alde renunciava nelle situazioni precedenti ed è di nuovo uno sfondamento verso la capacità predittiva sulla base delle leggi fondamentali che la meccanica che la simulazione molecolare consente di realizzare vado molto rapidamente menziono soltanto un altro paio di direzioni che questa disciplina chiamiamola così imprende tra gli anni 60 e gli anni 70 da una parte lo studio dei fenomeni critici la bestia nera della meccanica statistica teorica dell'epoca in cui non si riesce a capire che è quello che succede in corrispondenza del punto critico per l'appunto in certi sistemi e qui i contributi importanti vengono da questo fisico di origine austriaca Kurt Binder e l'altra cosa che pure menzionava Giovanni che crea problemi e che comincia ad essere attaccata alle fine degli anni 70 i sistemi quantistici in senso stretto laddove la natura quantistica delle cose di cui si sta parlando non può più essere ignorata e quindi non basta più come dire l'approssimazione classica consentita dalle cose di cui abbiamo sentito parlare bisogna entrare dentro e simulare e questo si riesce a fare soltanto con il Monte Carlo perché la dinamica molecolare di tutto questo per le cose che abbiamo sentito prima è ancora fuori portata ma i primi passi in questa direzione vengono compiuti da questi signori Malcalos in particolare David Saperley e qui ritorna il vecchio si fa per dire ancora un giovane all'età dell'epoca Bernie era vecchio quando lo abbiamo conosciuto e intervistato pochi anni fa prima che che ci lasciasse ma insomma nell'81 è ancora uno scienziato in piena attività e insieme a Saperley producono questo lavoro che è considerato appunto la chiesa miliare di partenza della simulazione di sistemi quantistici e in cui si vede come appunto Alder dica fino allora Saperley aveva fatto delle cose interessanti su quanto Monte Carlo è lui che me l'ha insegnato è lui che sapeva come fare questa roba ma quello che aveva fatto fino allora era un titolo approssimato e a me non piaceva dobbiamo farlo exactly without approximation e abbiamo cominciato a collaborare e l'abbiamo fatto e per dare un'idea della quantità di lavori fare questo ha significato oltre a avere idee e metterle migliaia di ore del Cray One il computer più veloce esistente al mondo all'epoca chiudo con questa immagine perché introduce un altro elemento che è storicamente rilevante cioè quando è che una storia così intricata in cui ci sono attori che vengono da formazioni scientifiche culture nazioni approcci disciplinari così differenti e tentano strade così diverse finisce col costituirsi come qualcosa di cui si può parlare come una disciplina come un settore di ricerca in senso proprio tipicamente quando compaiono riviste e o pubblicazioni specificamente dedicate a quel tipo di problemi e questo è qualcosa che già accade nel corso degli anni settanta ma soprattutto quando la comunità che si è organizzata attorno a questo insieme di problemi è cresciuta a sufficienza da darsi una propria identità istituzionale precisa questa è una foto del prima scuola estiva del primo meeting di ricercatori esperti e giovani in formazione la scuola di Varenna della società eterna di fisica del 1985 in cui per la prima volta nella storia compare non genericamente il termine problemi di meccanica statistica o cose di questo tipo ma compare esplicitamente simulazioni di dinamica molecolare di sistemi statistico-meccanici la simulazione è diventata già siamo all'85 diciamo una cosa abbastanza solida e abbastanza diffusa da darsi una sua autonomia di qualche genere e questo che per la storia che vi sto raccontando per sommi capi qui un punto di arrivo e al suo posto un punto di partenza per l'enorme sviluppo successivo di cui Giovanni ha fatto vedere prima alcuni dati quantitativi finisco con un po' di autopubblicità perché questo punto ci sta bene tu volete avere dettagli più precisi narrazioni aneddoti bibliografia e tantato con tutto questo abbiamo dato alle stampe un pari d'anni fa ormai con Giovanni e con il contributo fondamentale di Pietro Greco che non c'è più e che mi piace ricordare qui questo libro che è un libro non rivolto agli specialisti è un libro che aspira ad essere diciamo così di divulgazione in cui viene raccontata questa storia in realtà secondo me è troppo difficile per essere un libro di divulgazione è troppo semplice per essere un libro interessante per gli specialisti quindi potrebbe interessare gli storici grazie ok è un piacere che vi ringraziamo insomma che ringraziamo Giovanni e Giovanni per questa come dire per questa interessantissima presentazione diciamo che in realtà appunto incuriosisce e insomma sì e fa riflettere forse appunto quello che ha detto alla fine Giovanni Ciccotti no sulla considerazione del suo collega no chimico no a un certo punto un fatto socialmente rilevante i chimici sono cioè i fisici sono intellettuali i chimici diciamo alla fine effettivamente pensandoci no andando anche indietro negli anni io tra l'altro alcuni di questi protagonisti li ho anche incontrati in maniera casuale Roberto Carri io l'ho incontrato vent'anni fa in una scuola proprio a Varenna anche scusa sto facendo una riunione anche ok ti saluto ciao anche Kurt l'ho incontrato insomma io alcuni di questi personaggi li avevo anche incontrati però in realtà forse è vero da parte di molti di noi c'è stata sempre questa tendenza a derubricare un po' come dire il numerico a smanettone no questo è vero diciamo è una cosa che io ho visto in molte situazioni anche ne ho sentito parlare però indubbiamente diciamo è un fatto cruciale oggi non si fa nulla senza di questi sistemi fortemente correlati tutti i sistemi complessi qualunque cosa diciamo senza questo non si fa veramente nulla quindi veramente è un aspetto cruciale ecco questo è qualcosa che noi come dire ed è una cosa che mi incuriosisce molto è che effettivamente mi riservo anche di approfondire in molti aspetti diciamo perché ripeto alcuni di questi personaggi li conoscevo altri confesso la mia ignoranza assolutamente no quindi certamente andrò ad approfondire però intanto vedo che si alzano le prime mani Adele prego grazie grazie Adele ringrazio moltissimo Gianni e Giovanni per questa bellissima presentazione una curiosità diciamo un po' sempliciamo naif ma volevo capire diciamo se c'è una 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 colorazione che posizione occupa la storia invece diciamo della calcolatrice elettronica pisana all'interno di questa di questa evoluzione della potenza di calcolo è significativo che poi sia stata diciamo creata in qualche modo proprio sul suggerimento di Fermi che in qualche modo era un po' un principe nell'attaccare problematiche tanto diverse tra di loro e appunto a cavallo anche tra fisica teorica e fisica sperimentale quindi questa è la mia domanda insomma a chi a chi le due la rivolgi mi piacerebbe avere l'onore di avere una risposta corale qui sta succedendo sta suonando un allarme al dipartimento di informatica di Verona tra l'altro significativamente sono in un dipartimento di informatica ma non capisco che sta succedendo scusatemi allora comincio io significativamente l'informatica in Italia fa schifo a parte qualche tentativo d'eccellenza che però è sempre stato tenuto sotto banco pensate che il Cinega che dovrebbe essere il punto più alto della nostra informatica nazionale è utilizzato dal ministero e pagato dal ministero della pubblica istruzione per fargli i conti dei salari della gente cioè non hanno ancora capito che queste cose sono servizi commerciali da fare sul mercato libero e che invece una cosa grossa come il Cinega dovrebbe occuparsi del tenere il passo con lo sviluppo del settore l'esperienza capisana è molto interessante nel senso che è già quando l'Italia è stata buttata fuori scusatemi io devo d'emergenza uscire da qui stanno scendo tutti al dipartimento di informatica perdonatemi noi ti perdoniamo ma continuiamo o ci premiamo adelebis prego prego è molto interessante perché probabilmente voi sapete meglio di me che l'Italia negli anni sessanta insomma all'inizio proprio dell'attività informatica via all'olivetti aveva un punto d'eccellenza aveva creato già i calcolatori da tavola aveva fatto delle cose notevoli tra l'altro grazie a un ingegnere italo-cinese se ho capito bene bravissimo Mario Chu forse ti riferisce a quello esattamente ma siccome non doveva fare ricerca secondo lo dico come lo penso quei maialoni degli americani quindi adesso non sappiamo l'incidente com'è stato ma insomma è stato fatto in modo che non ci fosse questo sviluppo il CNR invece con un'operazione apparentemente lucida aveva creato abbastanza presto un suo centro avanzato aveva comprato un computer avanzato un IPM a Pisa e ci aveva messo dentro parecchie risorse sarà stato fatto personale questa storia non la conosco in dettaglio ma in realtà in pochi anni l'entusiasmo si è consumato malgrado ci fosse una notevole competenza accumulata là e la cosa è andata in rovina cioè la gente è stata dispersa qualcuno si è salvato col Cineca il Cineca ha litigato con l'INFN perché erano i due centri che potevano sviluppare questa cosa e quindi non c'è stato uno sviluppo coordinato e in qualche modo l'Italia è rimasta in coda e ha perso queste occasioni io stesso sono associato all'IAC Istituto di Applicazione del Calcolo Mauro Picone che era stato un antesignano del calcolo della matematica applicata e che vive una vita di sopravvivenza dentro il CNR mentre se voi andate dovunque nel mondo sviluppato a Berlino al Curant eccetera questi sono i settori che godono di un prestigio e di un investimento enorme quindi c'è la solita dispersione di risorse per cui arrivano centellinate non arrivano se fermano eccetera e episodi di punta vengono lasciati morire in modo completamente delinquenziale quindi è un'esperienza seconda perché il CNR non aveva investito nel produrre macchine o componenti o software aveva un po' di software ma aveva investito soprattutto nel creare una competenza informatica sulla base di acquisti quindi era già morta la fase pioneristica però anche quella che comunque avrebbe permesso come minimo di tenere il passo come è successo in Germania o in Francia in realtà è morta in Germania e in Francia il CNRS ha sempre investito dall'epoca del SIS eccetera pur non essendo primo produttore ma mantenere una competenza in Germania stessa cosa da noi da noi niente insomma la cosa è finita nei rivoli salvo un'eccellenza gli NFN nelle reti che ci portiamo ancora come una cosa abbastanza buona quando io sono arrivato in Francia come direttore del CECAM che stava sopra il centro di calcolo CNRS per la rete io ero viziato dalla rete italiana che era già molto avanzata solo per la ricerca perché l'INFN parlava solo per la ricerca la telefonia aveva fatto schifo e ho trovato in Francia che loro stavano col Minitel per il servizio pubblico cioè con un oggetto inventato da loro ma ormai arretrato e nulli a livello invece dell'informatica scientifica cioè è partita negli anni in cui io invece avevo approfittato della rete INFN in America mi era successo un episodio divertentissimo una sera via la digital eccetera io mi ero connesso con Roma e ho trovato che era connesso Marinari ma erano per me le 10 di sera le 4 di mattina a Roma e dico Marinari tu che fai le 4 di mattina attaccato al computer e lui mi risponde ma non sono le 4 di mattina per me sono le 8 di sera o le 7 dico ma perché dove stai sto a San Francisco ed era l'87 quando sono arrivato nel 90 in Francia queste cose in Francia non le avrei potute fare capito? cioè c'era veramente una situazione diversa però loro hanno mantenuto ripreso e poi raggiunto livelli più che decenti e noi abbiamo continuamente disperso l'investimento quindi è una pagina tristissima secondo me solo un'aggiunta non voglio rifare la storia dell'informatica in Italia soltanto puntualmente sulle cose che chiedeva Dele che io sappia in particolare la CEP no è una storia interessante ma è estranea a questa storia di cui stiamo parlando quello che però è significativo Giovanni lo ha accennato ma all'epoca va ricordato vedo il primo la vicenda CEP e Calcolatrice Pisana si è integrata con quello che nel frattempo con la collaborazione che avevano innescato con Igrea e con l'Olivetti è il primo computer interamente a transistor realizzato al mondo prima dell'IBM l'abbiamo fatto noi è stato l'ELEA non mi ricordo un numero come si chiama realizzato lì poi c'è la triste storia del declino dell'Olivetti informatica e tutte le cose che ha ricordato Giovanni ed è stata un'occasione perduta dell'Italia degli anni 50-60 l'altra cosa è che un'altra occasione che poi è andata probabilmente male ma Carpardinello fanno il Carpardinello utilizzando l'unico Cray One esistente in Italia che era per l'appunto all'epoca quello del Cineca quindi in qualche modo i primi vagiti che poi sono finiti ahimè in tristi situazioni dell'informatica in Italia comunque una qualche correlazione con le cose che abbiamo detto qui nel caso specifico di Carpardinello ma allora non c'entra la CEP c'entra il fatto che il Cineca all'epoca funzionava evidentemente il Cray One è stato usato per fare il lavoro che hanno no ma funziona ancora ma la dispersione che era allora diciamo la dispersione era contenuta nel senso che c'era qualcuno che ha usato quei mezzi per fare un pezzettino della storia che abbiamo raccontato no ma la fisica tutto sommato lo sviluppo computazionale in Italia soprattutto delle teste pensanti più che delle strutture è ancora oggi notevole insomma la presenza internazionale è alta non è bassa e anche di idee apportate al settore anche in anni recenti quindi non c'è un problema è tipico insomma non c'è un problema di teste magari emigrano magari vengono offerti fuori quindi cominciano qua le idee buone le fanno qua e poi vanno d'altra parte fermi a Chicago fanno pinta che è un premio Nobel che è un premio Nobel ha preso in Italia e è andato via quando l'aveva già preso e quindi insomma è un problema che si ripete certo quindi diciamo è una storia fatta anche di occasioni mancate quindi se capisco in Italia dal punto di vista delle strutture insomma io ricordo di aver letto che Mario Chue è scomparso in situazioni strane esatto è vero c'era un qualcosa intorno all'incidente della divisione internazionale cioè non si doveva essere sviluppo in Italia una sorgente di idee realizzate ma doveva esserci al più l'uso insomma doveva essere in coda doveva essere clienti dell'America pochi per poco esatto insomma io ricordo di aver letto tutta una storia quindi diciamo è un qualcosa che si è voluto far andare in un certo modo fino a un certo punto ecco insomma questo è quello che mi sembra di vabbè come in tante altre situazioni del resto sì sì non è non è non è un caso in quanto italiani non c'è vittimismo nel senso che il marcomune è mezzo calcio certo certo no 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 è chiaro è che è molto chiaro naturalmente